Armocida rappresenta un unicum nel territorio. Sabato 10 febbraio, nel pomeriggio intorno alle ore 16, avremo il piacere di ricevere qui a Palazza Baduri e nello specifico nel laboratorio artistico della Valle del Torbido, il maestro, pittore e anche ceramista, Corrado Armocida. Sarà qui con noi perché darà a noi delle indicazioni che riguardano la scultura con l'argilla. E nel dettaglio lui ci spiegherà e ci farà vedere come realizza la sua maddamma gioiosana. Da queste maddamme? Raccontami queste maddamme, questa maddamma eh! Non è quella di Donna Gemma, però la dottoressa lo vuole... Grazie, grazie, grazie. Lo prendo con molto piacere. Lo prendo con molto piacere e vorrei che questa produzione si mantenesse nel tempo e Armocida fosse il maestro di una scuola di terracotte, terracotte di gioiosa ionica, come abbiamo quelle di Caltagirone, in piccolo di avere anche qui una scuola di questa natura. L'appuntamento di sabato è di fondamentale importanza per capire non soltanto quanto la cultura faccia parte di questo paesaggio gioiosano, ma anche la storia e la tradizione di questa figura femminile che possiamo anche identificarla come un'icona del paese stesso di gioiosa. E potranno assistere non soltanto i partecipanti, i baby ceramisti di concretamente, con le loro mamme e tutti i familiari, ma anche, appunto, la lezione è aperta, tutti quanti vorranno partecipare, con un minimo contributo per i materiali di 2 euro. La lezione di sabato con il maestro Corrada Armocida è patrocinata dall'amministrazione comunale di gioiosa ionica e il maestro, appunto, ci farà vedere concretamente come realizzare questa figura con l'argilla per la parte tecnica da lui curata, mentre invece sarà accompagnato da Rebecca Iacopetta, diplomata all'Accademia di Pellearte e alla Scuola di Scenografia, si occuperà di teorizzare, quindi, di spiegarci quella che è la storia proprio della saia gioiosana. Il laboratorio artistico come atelier, punto d'incontro per arte, cultura e tradizioni, come in questo caso la madama gioiosana, la saia della madama, icone che debbono essere portate avanti come cultura, come arte e come tradizione popolare. Dunque, oltre alla valenza pratica del manipolare la terra all'argilla, vi invitiamo tutti a partecipare a questo appuntamento di concretamente sabato 10 ottobre dalle ore 16 alle 19, per questa lezione particolare curata appunto dalla presenza del maestro Armocida e Rebecca Iacopetta. Armocida 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 Armocida